Le belle famiglie. Luigi I, Luigi II, Luigi III, Luigi IV, Luigi V, Luigi VI, Luigi VII, Luigi VIII, Luigi IX, Luigi X, detto l'attaccabrighe, Luigi Undicesimo, Luigi XII, Luigi XIII, Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI, Luigi XIII. E più nessuno, più niente. Ma che gente è mai questa che non ce l'ha fatta a contare fino a venti? Luigi XII, Luigi XII, Mario XII, Luigi XIII. Grazie.